Nel 1997 ha fatto il corso degli agenti immobiliari e nel 2004 ha fondato l'Elite Immobiliari con Cristina Gambotto, che è sua moglie. Nel 2010-2011 ha vinto il premio Casa.it, Real Estate Webstar. Io Marco lo conosco non da tantissimo perché sono arrivato da poco. Faccio una piccolissima testimonianza, giusto di 10 secondi. Io per il mio lavoro, che sono consulente del credito, il mio obiettivo è sempre stato quello di trovare un'agenzia immobiliare con cui collaborare a 360 gradi. Quindi non solo veramente una cosa matematica, vendo la casa e faccio il mutuo, ma proprio una collaborazione in toto, come è successo con Marco ad esempio. Quindi tanti complimenti a Marco e anche a sua moglie chiaramente dell'agenzia immobiliare, Eliti Immobiliari. A te Marco, grazie. Grazie mille, grazie mille. Allora, andiamo avanti subito perché il tempo scorre veloce. Marco Cassanelli, Eliti Immobiliari, socio al 50% di Eliti Immobiliari con mia moglie Cristina e amministratore. Allora, cosa faccio? Aiuto i proprietari di immobili che sono costretti ad abbassare il prezzo a causa del Covid, a vendere al di sopra dei prezzi di mercato, grazie al mio protocollo esclusiva, vendita perfetta, che mette in competizione tra loro gli acquirenti. Nel 2015 ho deciso di buttarmi, diciamo, nel mondo della comunicazione, inventato un blog, come si vende casa, che cosa faccio? Do informazioni a chi deve vendere attraverso due guide che sono state scritte da me. E poi, ovviamente, spiego il processo di vendita di una casa che, insomma, le persone non sono abituate a fare tutti i giorni. Adesso mi sembrava giusto far partecipare anche Cristina. A noi piace parlare non attraverso la nostra bocca, siamo bravi, siamo belli, ma attraverso quelli che sono le nostre testimonianze. Questo è un minuto veloce di un intervento a Tele Lombardia con Cristina, che ci racconta la testimonianza di un nostro cliente che è pienamente soddisfatto. Cristina, le persone che si rivolgono a voi, come dicevamo anche nella scorsa puntata, sono sempre tante. Ci puoi dare qualche testimonianza dei risultati di queste persone che si sono rivolte appunto a voi? Volentieri, è un piacere per noi. Più che parlarne io, vorrei far parlare direttamente i nostri clienti e guardare insieme a voi alcune foto sorridenti nel giorno del rogito. La prima testimonianza è di Elena. Come è andata la vendita della mia casa a Milano? Beh, avete trovato subito il compratore giusto, in neanche dieci giorni da quando avete pubblicato l'annuncio. Cosa dire? Siete stati grandi, bravi, professionali e molto seri. Qualità rara in questi tempi. Posso solo augurarvi di continuare così. Un abbraccio forte forte, Elena Bonfiglio. Questa è stata appunto una testimonianza, quella che aveva di pronte era praticamente un premio che diamo ai nostri venditori di casa. In quel caso lì era un weekend in un hotel della catena Boscolo. Loro non lo sanno quando ci danno l'incarico, a noi ci piace sorprendere. Allora, crisi del mercato immobiliare, Covid-19, ma cosa succede realmente a Milano? Non voglio essere pessimista, anche qui vi racconterò una storia di quella che è appena successa nei nostri giorni. Ci sono risvolti ovviamente che non sono solamente negativi quando si parla di Covid. E adesso andiamo a scoprire il perché. Allora, partiamo da lontano. A sinistra vedete il nostro incarico del 12 di ottobre per una casa in via Lomero a Milano città. Che cosa succede? Abbiamo ricevuto l'incarico di vendita. Il proprietario, Fabio, dopo essersi affidato a due agenti immobiliari senza esclusiva, ha perso 10 mesi di tempo perché loro non hanno avuto il coraggio di dirgli il prezzo reale della casa. E il risultato in 10 mesi sono state 4 visite e nessuna proposta di acquisto. Attivo il protocollo vendita perfetta, arrivano 110 telefonate, 48 visite e 3 offerte. La differenza tra telefonate e visite è perché noi facciamo la prequalifica. Se la persona è solamente un perditempo, un visitatore o non è pronto, deve fare il mutuo. Lo mandiamo da Pacchetti. Se Pacchetti ci dice che le minga boom, noi non li facciamo vedere la casa. Se minga qua a fare, a far saltare la sciglia. Allora, che cosa succede? Accettazione della prima migliore proposta. È il 22 di febbraio. Attenzione alle date. Andiamo avanti. E adesso che cosa succede? Questa persona fa la proposta di acquisto perché ha venduto casa sua, perché era troppo piccola, si voleva spostare in una più grande. Covid-19 è la variabile imprevedibile. 10 marzo lockdown a Milano. Il 24 marzo la parte acquirente, promissaria acquirente, solleva delle perplessità. Parliamo il 7 aprile, chiediamo il punto della situazione con tre notai e ci spiegano tutti i dati che non c'è nessuna problema, nessuna perplessità. Il 29 di aprile convochiamo il venditore che nel frattempo aveva preso altri impegni economici e gli diciamo Ascolta, è inutile andare in causa con questa persona qui, non ne usciamo più, tu i problemi ce li hai lo stesso, lasciamo perdere tutto quanto. Fidati di noi, la casa te la rivendiamo, non c'è nessun problema. Ci ascolta, il 4 maggio finisce il lockdown, il 19 maggio liberiamo l'acquirente da ogni vincolo e quindi ricominciamo la vendita. Casa venduta per la seconda volta. Questa volta, il primo di luglio, questa persona grazie al coronavirus decide di cambiare casa perché vive in una casa troppo piccola, la mamma abita in Sardegna e dice, in un prossimo lockdown io non posso andare a visitare mia mamma, la voglio in casa con me. E quindi fa la proposta per la casa in Viale Omero. Vinciamo perché lavoriamo bene e che cosa succede? Lei ci dà da vendere lo stesso giorno che fa la proposta casa sua e noi battiamo 2459 agenti immobiliari di Milano Città. E adesso arriva il momento dell'aiuto. Che cosa succede? L'acquirente ha bisogno di finanziare l'acquisto di casa. E io chiamo il miglior mediatore creditizio di Milano che è Nicola Pacchetti. Il mutuo viene concesso a condizioni eccellenti. Accettazione della migliore proposta anche qui. Arriva l'acquirente per la casa di Besserione. Preso l'incarico il primo di luglio, venduta il 23 di luglio. 22 giorni ci sono voluto anche qui con più offerte. Che cosa ha scatenato questo cambiamento? Si era trasferito all'estero questo acquirente per motivi di lavoro e è scoppiato il Covid. A quel punto ha deciso di tornare in Italia perché dove si era trasferito il costo della vita senza lavoro era molto più alto. Dice torno in Italia e compro una casa. Voilà! E qui arriviamo al 14 venerdì 14 agosto di ovviamente quest'anno. Alle 12.30 ricevo Nicola Pacchetti per il sopralluogo del perito della banca. Alle 12.50 il perito rileva una difformità catastale. E io alle 12.55 informo con il perito della banca il proprietario di questa difformità. Insomma di questo contrattempo. E lui diceva al mare fa Cassanelli pensaci tu. Secondo aiuto al momento giusto. Ho il suo problema 12.56 di venerdì. Venerdì 14 agosto. Devo trovare una soluzione. Chiamo il miglior architetto di Milano Alessandra Manelli. E alle 16.30 esce lei con il geometra napolitano per il sopralluogo per iniziare le pratiche e mettere a posto tutto quanto. E qui ci piace andare a vedere. Queste sono le facce dei nostri clienti. Quel bel faccione con la barba è che ha comprato la casa della signora dietro. Ovvero l'appartamento più piccolo. E quella dietro è Cristina. Sempre sorridenti alla fine di un rogito perché noi ci teniamo prima i rapporti interpersonali con le persone. Questo invece è il rogito del 6 di ottobre con il venditore sulla destra della casa di Via Lomero, l'acquirente la signora Cinzia e ovviamente Cristina. Tutti sorridenti. E a noi piace sorprendere. Nella foto a sinistra vedete quella borsetta voi donne là dentro. Abbiamo scoperto che la nostra cliente amava le borsette colorate. Allora siamo andati da braccialini e gli abbiamo fatto questo regalo inaspettato. Appunto gli abbiamo regalato una borsetta. E lei ci ha scritto questa recensione a prescindere dalla borsetta e scrive Ho avuto modo di conoscere l'elite immobiliare sia come acquirente che come venditore dato che ho acquistato un immobile di cui loro curavano la vendita e gli ho affidato la vendita del mio. Non essendo un'agenzia che operava nella mia zona non avrei certo pensato di rivolgermi a loro. Quindi è stata una concentrazione di eventi del tutto casuale quella che ci ha fatto incontrare. Casuale e aggiungo fortunata. Avevo acquistato la mia prima casa nel 2001 da un'agenzia con numerose filiali su tutta Milano ma se devo paragonare l'esperienza di allora con questa direi che siamo lontani a ne luce. L'elite immobiliare mi ha preso per mano e mi ha accompagnato dal primo passo con premura, competenza, impegno, generosità, gentilezza fino a gestire per mio conto persino tutte le pratiche burocratiche che mi chiudevano le porte della casa vecchia e mi spalancavano quelle della nuova. E anche a iniziare un rapporto interpersonale cordiale e sincero che non finisce qui. Grazie a tutti.